Sono otto i nuovi impianti che dovrebbero sorgere secondo il piano. Intanto partiamo da qui. Sì, nel nuovo piano a fronte di una richiesta che erano addirittura intorno ai 70 ne abbiamo ottimizzato la possibilità di andare in parte in quelli già esistenti quindi i 61 saranno in quelli già esistenti in modalità di co-siting e sono soltanto otto quelli nuovi nel territorio che abbiamo inserito nel piano. Ecco, ora ovviamente ci sarà un processo prima dell'approvazione definitiva. Sì, certo. Questa è la redazione del piano a livello cartaceo. In questo momento il piano è alla valutazione ambientale strategica quindi deve essere rilasciata la VAS dall'ufficio ambiente quindi una valutazione di ARPAT e l'ufficio ambiente. Dopodiché ci sarà il processo partecipativo con la cittadinanza che è molto importante su un tema così, diciamo, attuale e scostante in questo momento e poi il piano, come tutti i piani urbanistici, andrà in Consiglio Comunale. Ecco, su Via Anconetana però c'è una notizia. Sì, su Via Anconetana c'è una notizia positiva per il Comune perché avevamo fatto ricorso al Consiglio di Stato e il ricorso è stato vinto dal Comune di Arezzo. Si spera che questo apra un nuovo spiraglio che dà al Comune la possibilità anche dopo di contraddire laddove è stato scelto un sito che non va bene con i piani urbanistici. Si mette un punto, mi pare di capire, sotto un profilo più che altro proprio operativo da parte del Comune di Arezzo cioè, ok, che sono ovviamente impianti di pubblica utilità ma questo non può passare sopra la testa del Comune ma soprattutto dei cittadini. Sì, perché appunto c'è la normativa nazionale che gli permette di fare una richiesta in deroga a quelli che sono appunto i piani comunali però è vero anche che l'indifferibilità che è quello che loro sostengono quando ci vengono a chiedere un punto che è esterno da quelli dei piani deve essere effettiva cioè per esempio Bianconetana effettivamente c'era già una installazione molto vicina in cui loro si potevano mettere in appunto co-siting cioè attaccare allo stesso impianto e quindi il Comune lì ha vinto per questo.